Ciao Mario! Cos'ha fatto qua? Dov'ete correre qui si noi? Soltate un maestro di sì! Ma sì? Sì! Avete porti a spana bassa? San maestro mi ha detto caricare il peso a vai Caricare il peso a vai se tre settimane porto due per il piede e così Viva la notte! Toni Toni che lo che le va di Veneziai In testi di come te scatte lo streppo e pomer E se parla in seggio tia Che li sente tutti quanti Te iscrivi e passa avanti Sulle visere sta il bus E se parla in seggio tia Che li sente tutti quanti Te iscrivi e passa avanti Sulle misteri sta il bus E in Veneziai Poi si ora Sono partì col vapore Parivasi di Vizentino Sono sul monte e sono arrivato Coraggio e volontà E sui sì Parla in mezzo E con me so Oggio e agio E ho fatto Per il filico montanaro Cosa ha detto Chi? E SIM E VIVA Eד PORRIMAVERA Vedo l'erba ammolesina, bacio su una stelettina, picca e scala, tutti i frani, picca e corda e mora, poi, dei paradisi arpa e guanti, l'antio finita davanti, non si rica pronta in mano. Picca e corda e mora, poi, dei paradisi arpa e guanti, l'antio finita davanti, così capmato in mano. La Bimperà, 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 la Bimperà nel objectsio. come lo mangiavi? la gamba la gamba, la gamba, come lo mangiavi? la gamba la gamba.. come lo mangiavi? la gamba la gamba la gamba... Questa regga è messa un coccodrino! ma non te vede che lei è una rete sera una rete che? un borbetto e che frega se non che beve? è un camorruo Montanaro cosa hai detto? Moro Festa Codissati in la cardana riva bellissima il monte le arie buone nella fronte soppan farsi respirare le marette le sparisse su Brugna e Scana le ganasse resta il censo del sguardo cinque piatti e bussolo le marette le sparisse su Brugna e Scana le ganasse resta il cesso del sguardo cinque piatti e bussolo la gente si va la merda resta qua ma ti dici ti? io dico Montanaro e mi dico i miei amici ciao Piero dove ti curito quel sacco? non si viene un sacco appena? oh! si è un sacco normale voglio io capuzzi patate teoline basioni ciao Tony ma trova un campo abbandonato? non c'era neanche recintato con l'alta tensione ho scritto verbote mi penso che faccia papà del norsuso per promuovere il turismo sti montanari i gnocchi si fa di tutto pensate e pensa che questo sia il Drio e fa e caccia il tesoro pensa e sconde per fine le patate sotto terra perché non le trovevo? gli occhi Mi racc茶 Rosso il ciocco si объve. ci forgediamo è sc latte è sc mmm anche i fungi è medici ma, non ho avվato l'altro io aver official vadano an e i i i i i i i Da un punto le tornave che si escuta, si fa il legno e i piloni, sono dei frasi cresibuti, ogni fuoco ha benediano, brindellare scastagnere, ciò di su con la manita, qualche volta lava grita, ma mi spessa l'ospedale. Brindellare scastagnere, ciò di su con la manita, qualche volta lava grita, ma mi spessa l'ospedale. Sì, di molte pazza stai, fa male dentro, poi per la strada perdi tutto quanto. Se ti va bene c'è il servizio pronto Rimetti l'anima Dagli auguri per poco! 50 anni ancora! Grazie!